Un punto, un punto, un punto, due partite col Monza, 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 un punto, fate schifo, fate schifo, ditelo, facciamo schifo, ditelo, facciamo schifo, dai, diciamo, l'avete fatto apposta, dai, ditelo, ditelo, l'avete fatto apposta, eh, scusa, scusa, inter, scusa, l'abbiamo fatto apposta, scusate i tifosi, l'abbiamo fatto apposta, Abbiamo fatto apposta prendere di nuovo gol da Caldirola, abbiamo fatto apposta prendere gol da Caldirola da calcio d'angolo, sputatevi, sputatevi, ogni cavolo di volta, sputatevi, ogni volta che tornate nel campo, sputatevi, ogni volta che andate negli spogliatoi, sputatevi, perché fate schifo, fate schifo tutti quanti, dai difensori all'allenatore, l'unico che salvo stasera forse è Onana, perché sul gol di Caldirola non poteva fare praticamente quasi niente, perché era un gol schiacciato sull'area, quindi non poteva arrivarci, ma tutti gli altri fate schifo, siete una vergogna, siete una vergogna unica, siamo una vergogna unica, siamo la vergogna d'Italia, noi siamo l'Inter, voi portate la maglia dell'Inter, fate schifo, non siete degni di quella maglia che portate, non siete degni, non siete neanche degni di essere chiamati giocatori, non so neanche come fate a essere nei quarti di Champions League, avete fatto due gol col Benfica al Daluz, avete dato la dimostrazione di forza che voi a quella Champions League ci tenete, ma volete darci una gioia, cazzo, in questo cazzo di campionato, ma tanto l'abbiamo capito che a voi non ve ne frega più un cazzo del campionato, l'abbiamo già capito, ma è già dalla partita con lo Spezia che non ve ne frega più niente del campionato, ma a questo punto rischiamo anche di andare neanche in Europa League, in Conference, a questo punto una possibilità avevamo, una, una possibilità avevamo di superare il Milan e di arrivare nelle prime quattro, no, no, voi volete, voi volete farci soffrire, voi volete farci soffrire, volete andare per forza in Europa League, perché non lo so perché, perché siete ritardati, oppure perché vi piace tanto quella coppa, ma fatevi una cavolo, una cavolo di coscienza, guardatevi allo specchio e sputatevi, perché siete una vergogna, siete una vergogna, siete una vergogna!